Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata della nostra chiesa nella città, oggi dedicata alle novità Libravi e che vi proponiamo questa settimana dagli studi virtuali dell'editrice legata all'Arcidiocesi di Milano e quindi Centro Ambrosiano, ITL, IPL, In Dialogo e proprio da un saggio di In Dialogo vogliamo partire. I cattolici e la resistenza dalla liberazione, memoria, identità, futuro. Oltretutto questo bel volume si arricchisce di lettere inedite di Giuseppe Lazzati dal Lager. Giuseppe Lazzati figura esemplare di laico, cristiano, una vita dedicata al Signore, agli studi, ai giovani come rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e soprattutto una linea di pensiero, come disse il Cardinale Martini, con la schiena dritta. Ho servito, avendo come ideale proprio questo, servire e cercare di fare bene il servizio. Giuseppe Lazzati è anche indicato come figura esemplare con la causa di beatificazione che è in corso e quindi cattolice della resistenza in dialogo editore. E vogliamo continuare con un volume, permettetemi di dirlo, che ha fatto un po' la storia della presenza del clero ambrosiano nelle file appunto dei partigiani, nelle file di coloro che non si piegarono al nazifascismo. Memoria di sacerdoti, ribelli per amore, 1943-1945. Si tratta di una ristampa centro-ambrosiano. A firmarlo è Giovanni Barbareschi, Monsignor Barbareschi, che è scomparso il 5 ottobre del 2018, ma che rimane vivo nella memoria di tutti noi. Fu lui stesso resistente, giovanissimo, cristiano, prete, fu incarcerato a San Vittore, fu torturato, lo raccontava nelle sue memorie spesso, ancora con la commozione negli occhi. E però ricordava anche i suoi compagni di Sventura, Teresi Olivelli, Carlo Bianchi e Don Gnocchi, Don Carlo Gnocchi, che anche lui passò da San Vittore. E in questo saggio ci sono tutte queste figure e molte di più. Sono brevi brani delle vite di singoli presbiteri, ma magnifiche. Se non l'avete mai letto è veramente un modo per entrare nella storia. Memoria di sacerdoti, ribelli per amore. Perché ribelli per amore? Per l'amore del Signore e per l'amore delle persone, degli uomini, ingiustamente perseguitati. Si può diventare ribelli, lo diceva sempre Monsignor Barbareschi. E così è. Centro Ambrosiano. Ancora volumi che ci parlano della resistenza, nello specifico quella femminile. In questo bel saggio, a cura di Giorgio Vecchio, che è uno storico che non ha bisogno di presentazione e che ha approfondito questi temi nella sua lunga carriera accademica. Un volume interessante perché non è così conosciuta la presenza femminile. Ora si va un po' approfondendo negli studi, ma un tempo era quasi dimenticata e invece ha voluto dire moltissimo. Ha voluto dire coraggio, come sanno essere coraggiosi le donne. Ha voluto dire prendersi cura, essere nella resistenza, essere clandestine. Accettare pericoli veramente in mani, forse inimmaginabili per le nostre generazioni, quelle che sono venute dopo, per noi anche. E allora la resistenza delle donne, 1943-1945, l'edizione in questo caso è in dialogo, e Fondazione Ambrosia Neum è un modo per affrontare questi temi con un occhio certamente attento, come quello di Giorgio Vecchio, ma anche in una dinamica, vorremmo dire, tutta femminile. La resistenza delle donne. Poco fa abbiamo parlato di Monsignor Giovanni Barbareschi. Fu lui, qualche anno fa, ad avanzare la ipotesi, a chiedere al Comune di Milano che una via della città fosse intitolata alle suore e la resistenza, alle suore della resistenza. Ebbene, ancora non è successo, ma insomma non disperiamo, è anche un modo per tornare sulla questione, fare un appello, anche noi, come sappiamo, nel piccolo. Ma il ruolo delle suore della resistenza, specie a Milano, è stato veramente fondamentale. E allora, sempre a cura di Giorgio Vecchio, questo volume è dedicato al tema. L'edizione è sempre in dialogo, Fondazione Ambrosia Neum, e ripercorre la vita di alcune religiose che certamente non sono note, ma io voglio ricordare una di queste religiose, che invece è molto nota. È l'angelo di San Vittore, suor Enrichetta Alfieri, delle suore della carità di Antida Touré. Ebbene, ella fu in San Vittore, svolgeva il suo alto compito di sostegno e di accoglienza delle detenute, ma durante la resistenza poi fu lei stessa una resistente, portava bigliettini sotto la veste naturalmente da religiosa, e metteva in contatto i vari resistenti imprigionati, i partigiani. È la fantasia, la bellezza della carità cristiana. E allora, le suore e la resistenza, sperando davvero che una strada sia intitolata nella nostra città a queste religiose coraggiose.